Osvaldo Bevilacqua, maestro in giornalismo, volto noto del piccolo schermo, oggi a Pescara per assaggiare i brodetti di Pescara, Vasto e Giulianova. Come li ha trovati? Interessantissimi, perché tutti diversi e la diversità serve, perché è stato soprattutto un racconto da parte degli chef che hanno preparato questi piatti, si vede con molta passione. Perché dentro ci sono dei radici dei loro antenati, dei loro nonni, bisnonni e stanno portando avanti una tradizione. E anche al di là delle piccole differenziazioni, c'è quello un po' più brutoso, quello un po' più asciutto, va benissimo. Perché l'essenziale è che si promuova anche nei confronti dei clienti e quindi della gente, di noi tutti, si crei questa coscienza che non si sta mangiando un piatto qualsiasi. Il brodetto, qui come anche in altre regioni, dal nord al sud, ha un suo valore, un valore che ti riporta appunto alle radici. E quindi è un piatto che va gustato, va assaporato, in tutte le sue accezioni diverse, in tutte le interpretazioni, sapendo che in quel momento tu stai assaggiando qualcosa che i nostri bisnonni, già alla fine dell'Ottocento, quindi anche ancora indietro, avevano creato, perché qui si vede l'incontro, ed è bello questo, del mare e della terra, del contadino, del pescatore, insieme, che hanno concorso a formare un piatto che è la storia dell'Abruzzo o delle altre regioni. E soprattutto l'Abruzzo deve essere orgoglioso di avere tante interpretazioni, perché si vede che è nel loro DNA, degli abruzzesi, questo. Allora cerchiamo di farlo conoscere sempre di più e soprattutto ci si rivolge a questo piatto con meditazione, cioè devi pensare perché c'è quel pesce invece di un altro, perché c'è quel tipo di condimento anziché un altro. Poi qui c'è la fortuna di avere oli straordinari, d'altro canto siamo nel triangolo dell'olio, quindi dell'oro. E quindi questo è molto importante, perché l'Abruzzo ha il mare, promette mare e montagna e mantiene la promessa, che è mare e che è montagna. E poi hai, dammi del tu, e poi hai la fortuna di questo territorio dove c'è tutto, appunto come dicevo, oltre che al mare, ma anche i sapori della terra, il vino, l'olio, il pane, cioè è qualcosa di straordinario. Amici abruzzesi, io ho casa qui in Abruzzo da più di 40 anni. Ho scelto l'Abruzzo, quindi non mi ha scelto l'Abruzzo, adesso invece mi sceglie l'Abruzzo, ma inizialmente l'ho scelto io. E vi invito a rendervi conto, perché voi a parole l'utite, io ne parlo perché sono amico da una vita degli abruzzesi, allora si parla sempre dell'orgoglio abruzzese, però poi non vi rendete conto invece di quello che può diventare, in termini economici, questa vostra predisposizione nei confronti del forestiero che arriva, che viene apposta qui ad assaggiare queste meraviglie.